In cammino per la pace da San Pancrazio a Civitella. Torna sabato 18 maggio la Marcia per la Pace che coinvolgerà anche quest'anno gli studenti degli istituti comprensivi del territorio e i comuni stragizzati della Toscana, regione che pagò un prezzo altissimo di vite umane. Gli ecidi concentrati soprattutto tra l'aprile e l'agosto del 1944 furono più di 280, i comuni interessati 83 e i morti tra i civili furono circa 4.500. L'iniziativa è ricordo delle 244 vittime civili dell'ecidio nazifascista del 29 giugno del 1944 che si svolse lungo la strada che collega i luoghi della strage dei due territori comunali in un percorso di circa 9 chilometri da San Pancrazio condurrà fino a Civitella, quello stesso tracciato in cui le truppe della divisione Hermann Göring sparsero sangue di uomini, donne e bambini è organizzata dalle amministrazioni comunali di Bucina Civitella in Valdichiana dal coordinamento nazionale Enti Locali per la Pace con l'adesione della regione Toscana alla provincia di Arezzo, Anci Nazionale ed Anci Toscana nell'ambito delle celebrazioni programmate nell'ottantesimo anniversario dell'ecidio di Civitella, Corni e San Pancrazio e nel 79esimo anniversario della liberazione.